No aspetta, devo mettere final cut se no non sembra che sto lavorando No si stava renderizzando Ragazzi, da stamattina alle 6 che sono in piedi Dopo un lunghissimo viaggio per tornare dal Vietnam Questo è un video extra, un video aggiornamento così per dirvi una roba Una roba che è successa ieri sera e lì per lì non ci ho fatto molto caso Perché quando Giulio me l'ha detto io stavo già praticamente con un piede nella fossa del letto Ero stanchissimo, però adesso ci stavo ripensando e ho detto Sai che è abbastanza clickbait per farci un video? Forse Allora, l'indirizzo di casa mia o comunque il luogo in cui abito a Farageladad, al mio paese Non è un segreto, perché alla fine a Farageladad ci sono due palazzi alti Esclusi quelli di Via dei Palass Io in qua, cioè ce n'è un altro anche dove abita mia zia Però fondamentalmente ce ne sono due vicini Se io inquadro l'altro è ovvio che io abito in questo qua che è il mio condominio Poi comunque basandosi sulla vista dalle mie finestre Perché io comunque faccio fotografie, faccio Instagram stories, faccio i timelapse Faccio riprese anche sul primo canale Dalle mie finestre che danno sulle montagne Insomma è facile capire qual è il mio appartamento Perché io vivo in un appartamentino, capito? Però comunque è in una bella posizione perché è su questo palazzo Che vede su Farageladad e il panorama non è niente male E le persone che mi seguono del mio paese sanno dove abito Ed è capitato più e più volte che venissero a suonarmi Una volta hanno suonato, ho risposto mia madre Che non essendo molto familiare con la cosa Mi ha detto Nicola guarda che c'è giù qualcuno che ti cerchi Io sono sceso e ho detto chi sarà quest'ora E un ragazzo mi fa Oh bella Yuma, facciamo una foto? Io ho detto ok, ma cosa ci fai qua? Niente, volevo una fotografia Ok Era la prima volta che capitava una cosa del genere E ho detto, beh non ricapiterà Dai non sono mica uno youtuber importante Che si ritrova i fan sotto casa E invece, pur non essendo uno youtuber importante Mi sono ritrovato un po' di persone sotto casa Che mi sono venute a suonare più e più volte Soprattutto durante l'estate Perché insomma le scuole sono chiuse E hai poco da fare Qui in zona non c'è nulla E quindi ti devi inventare qualcosa Per passare il tempo Perché non andiamo a suonare a Yuma Safari? Ok, quindi sono venuti a suonarmi sotto casa E ho detto, raga se sono a casa sto lavorando Quindi scusatemi se non scendo ogni volta Però se mi incontrate per l'estate mi fa piacere Infatti c'è un sacco di gente che mi ferma Anche soltanto nel tragitto di 200 metri Per andare a salutare mia nonna E cosa è successo? L'ultima trovata E volevo dirvela perché Boh, non so se a qualcun altro dei miei colleghi Mi è capitato Però è tipo abbastanza geniale Questa luce mi smussa la pelle Sembro una beauty guru Comunque, ieri sera Giulia era in bagno Io ero già a letto Stavo già per dormire E quando è venuta di qua mi fa Guarda che sono dei ragazzini Che puntavano il laser Sulla finestra del tuo bagno Probabilmente pensando che fossi tu Perché io evidentemente Non so, magari avevo messo un Instagram stories Che ho tornato a casa Roba simile Era sabato sera C'erano dei ragazzini che con il laser Per attirare la mia attenzione O magari era gente che manco mi conosce Voleva soltanto fare come quando suonano i campanelli Che mi capita anche Che vengono dei ragazzini a suonarmi i campanelli Ma tipo ragazzini dell'elementare Quindi esco fuori dalla finestra E faccio E loro Però C'è niente Niente di grave Però sta cosa del laser Mi ha colpito L'ultima trovata dei Fan Sotto casa Potrei chiamarlo così il video Non lo so Vabbè Comunque morale della favola Non venite a casa mia Più che altro perché È facile che non mi trovate mai Quindi buttatevi al tempo Però se mi incrociate per strada Mi salutate Mi fa sempre piacere Quindi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao